Buongiorno dalla redazione di Udinews TV. In apertura gli ultimi dati sull'occupazione in provincia di Udine a fornirli. Confindustria saldo positivo tra assunti e cessati ma assunzioni in calo, meno 8% rispetto al 2018. Questi i dati che fotografano la situazione dell'occupazione in provincia di Udine nel primo trimestre del 2019. Le cessazioni sono state pari a 17.179 unità con un saldo positivo di 4.628 unità rispetto alle assunzioni, un saldo però inferiore a quello registrato nel primo trimestre del 2018. La maggior parte delle assunzioni, il 41,1% del totale, ha interessato il terziario, segue il manifatturiero con il 18,3% e poi ancora gli altri settori come le costruzioni con il 5,6% del totale. Le assunzioni nel settore delle costruzioni sono in aumento rispetto agli altri settori, più 23,5%. Le tipologie contrattuali, un contratto su due è a tempo determinato, il 16,1% dei contratti è per lavoro in somministrazione, poi il 12,7% a tempo indeterminato, il 6,9% lavoro intermittente. Questi dati purtroppo non ci sorprendono, ha commentato Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, poiché la flessione nelle assunzioni e nel saldo con le cessazioni riflette l'andamento negativo della produzione industriale, sia a livello territoriale che nazionale. In una congiuntura, ha sottolineato Mareschi Danieli, che resta fragile, è difficile immaginare un aumento a breve termine dei tassi di occupazione. Il 9 maggio scorso il Tribunale Ordinario di Milano ha decretato il fallimento della Seleco SPA, fondata nel 1965 a Pordenone come marchio della Zanussi Elettronica SPA. Negli ultimi anni, dopo la crisi degli anni Ottanta e i tentativi di rilancio, la società guidata da Maurizio Pannella aveva spostato la sua sede Trieste per avviare e per riavviare la produzione, un progetto che però è naufragato. La società aveva accumulato un debito milionario anche a seguito di alcune sponsorizzazioni nel mondo del calcio. Il 9 maggio scorso, come detto, il decreto di fallimento emesso dal Tribunale di Milano. La cronaca ora furto in piscina a Cividale del Friuli, da un armadietto dello spogliatoio sono spariti un giacone nero, un portafoglio con un banco, matecarte di credito, 40 euro in contanti e un cellulare. I gnoti hanno forzato la serratura dell'armadietto e rubato tutti gli effetti personali contenuti all'interno. Sull'episodio indagano i carabinieri. Denunciato per tentata rapina e porto abusivo di coltello un giovane di 17 anni di Pasian di Prato che nel tardo pomeriggio di ieri è entrato in un negozio di via Cividale a Udine dicendo di voler acquistare una sciarpa ma all'improvviso ha sfoderato un taglierino e minacciato la titolare per la consegna dell'incasso. La donna si è rifiutata di consegnargli i soldi e ha chiamato i carabinieri. A quel punto il giovane ha tentato la fuga ma è stato rintracciato, fermato e denunciato dai carabinieri del Radio Mobile. Ancora una truffa online conclusasi però questa volta con la restituzione del maltolto. Vittima del raggiro una donna di Trieste destinataria di una mail apparentemente proveniente dal proprio istituto bancario che a ragione di asseriti problemi tecnici sul conto corrente la invitava a compilare alcuni campi con i propri dati. Tratta in inganno dalla grafica del sito fake in tutto e per tutto simile a quello della propria banca la donna ha completato le operazioni richieste consentendo così all'hacker di effettuare un pagamento in proprio favore ai danni dell'ignara vittima. Resasi conto di quanto accaduto a sporto denuncia alla polizia postale che attraverso l'analisi dei movimenti della sua carta di credito è riuscita ad individuare la somma illecitamente sottratta, circa 1000 euro, giacente presso un conto corrente acceso presso una società italiana di gioco. La somma è stata bloccata e previo notifica alla stessa società di gioco online riaccreditata sul conto corrente della vittima. La polizia postale ricorda che gli istituti di credito e le società che mettono carte di credito non chiedono mai dati relativi al proprio sistema di on banking tramite email, sms o telefonicamente. L'invito quindi è a diffidare dalle mail che tramite un link in esse contenute rimandano ad un sito web dove confermare i propri dati. Apriamo la pagina politica adesso, quarta tappa nel percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative del 26 maggio. Oggi ci occupiamo di Rivignano Teor dove si contenderanno il municipio, il sindaco uscente, Mario Anzil e Francesco Pussini. Ad accettare il nostro spazio di presentazione è stato solamente Anzil. Allora sentiamolo nel nostro servizio. Il programma è molto vasto, spazia dall'ambiente alla raccolta differenziata, al trasporto, alle categorie, alla zona industriale ma l'argomento sicuramente più importante, quello su cui contiamo per lo sviluppo futuro è il recupero definitivo della villa Otelio Savornian ad Aris che sarà un'occasione di sviluppo, un volano per l'intero territorio non solo del comune di Rivignano Teor ma di tutti i comuni dell'asta del fiume Stella e potrà essere un polo culturale, economico e turistico davvero di importanza straordinaria. È la casa di Giulietta Lucina Savornian, la vera Giulietta. Noi pensiamo che possa essere appunto oltre che un polo museale insieme alla sovrintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, anche l'occasione di coinvolgere iniziative sia culturali che gastronomiche del territorio. Le criticità della sanità regionale al centro di una protesta, di un volantinaggio oggi in centro a Udine domani davanti all'ospedale del capoluogo frulano. Allora colleghiamoci con la nostra truppa esterna, con il nostro David Zanirato che si trova proprio in centro città per seguire questo volantinaggio. A te la linea David. Ben ritrovata Angela, a te i nostri telespettatori. Sì ci troviamo qui in centro città perché sta per concludersi questa mattinata di volantinaggio da parte dei aderenti alla CGL Funzione Pubblica. Siamo con Andrea Traunero che è il segretario provinciale. Tema sanità, zero passi in avanti. Così li avete definiti quelli della riforma avviata dalla nuova giunta regionale. Buongiorno a tutti. Sì è vero, noi oggi abbiamo cercato di sensibilizzare un po' l'opinione pubblica quindi mettendoci qui in una zona centrale di Udine. Continueremo nei prossimi giorni anche sensibilizzando un po' il personale con questa iniziativa che a noi è molto cara. E noi cara sia come funzione pubblica ma è cara anche quindi alla Camera del Lavoro della CGL della provincia di Udine in questo caso e anche ai pensionati che sono tutti i portatori di interesse di questa vicenda e per quanto riguarda anche la sanità in generale. C'è da dire che in provincia di Udine noi abbiamo sempre sin da subito sia dall'uscita delle linee di indirizzo regionali sulla sanità sia dalle decreti che sono usciti sui piani attuativi locali dell'azienda che in questo momento è ancora divisa come azienda udinese ma che dal 1 gennaio 2020 comincerà, partirà da Sapada passando per Tarvisio arrivando fino a Udine e continuando arrivando fino alla Tisana quindi comprendendo tutta la provincia di Udine. Questa nuova azienda capirete tutti che ha dei grossi problemi e avrà dei grossi problemi in questa riorganizzazione. In questo momento il piano attuativo locale ci è stato spiegato per quel che riguarda la parte della funzione pubblica quindi il personale in modo frettoloso e in modo disorganizzato. Però quello che è emerso ci è già risultato sin da subito un qualcosa che non ci piaceva almeno per quel poco che abbiamo capito quindi capiamo anche i nostri dubbi e avremmo voluto che ci fosse spiegato in modo più esaustivo. Per quanto riguarda nello specifico l'ospedale di Udine e Claudio di Ottavio quali sono le criticità che mettete sul tavolo? Buongiorno a tutti intanto. Io credo che la criticità maggiore che abbiamo rilevato almeno per quanto riguarda il Santa Maria della Misericordia è la chiusura del reparto postacuzzie che è un reparto che è lì da tanti anni dal 2007. Vi faccio solo un esempio. La chiusura di questo reparto che attualmente ha 22 posti letto determinerebbe una riduzione della capacità di accoglienza di questo ospedale di circa 700 pazienti in un anno. Non è poco. Questi pazienti andranno sostanzialmente nel futuro in base alla chiusura a gravare soprattutto sui reparti di medicina di questo ospedale. reparti di medicina che come sappiamo per tutta una serie di condizioni hanno un carico molto molto alto di pazienti. In che senso? Già attualmente quando ci sono le criticità forti come per esempio le influenze noi andiamo ad avere dei posti letto che consideriamo bis cioè sovranumerari rispetto a quella che è la capacità di questi reparti di poter dare risposta al cittadino, all'utente. Se noi pensiamo che andiamo a chiudere anche i posti acuzie riteniamo che questo sia un errore proprio di natura organizzativa. Quindi cosa stiamo chiedendo noi a livello locale, a livello di Asuiud? Intanto di rinunciare a chiudere questo reparto. Poi di pensare anche agli assetti, di pensare anche al personale perché anche lì ci sono delle problematiche. Lo diceva il segretario prima, queste problematiche sono anche relative a una riduzione della spesa e quindi riducendo la spesa riduci proprio il numero di operatori presenti sul campo, nelle corsie, nei reparti, nei servizi. Allora vedremo dunque quali saranno le risposte che arriveranno dalla giunta. Per il momento ci fermiamo qui Angela, poi naturalmente continueremo a raccogliere anche le istanze e il volantinaggio, lo ricordiamo, riprenderà anche domani davanti all'ospedale di Udina. Te la linea. Grazie, grazie a David Zanirato. Un finanziamento statale di 9,3 milioni di euro aggiungono in Friuli Venezia Giulia dal Ministero delle Infrastrutture per una serie di interventi da destinare al problema siccità, da destinare alla risoluzione del problema siccità. Dei 9,3 milioni già risposti per la nostra regione, ben 9 verranno erogati a favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, destinati alla realizzazione di due specifici lavori. Il primo, 5 milioni, interesserà la trasformazione in rigua da scorrimento ad aspersione nei comuni di Basiliano e Lestizza. Un altro intervento simile del valore di 4 milioni verrà invece effettuato nei comuni di Codroipo e Sedegliano per una superficie complessiva di 330 ettari. I restanti 300 mila euro verranno invece utilizzati per incrementare la capacità di laminazione dei serbatoi idroelettrici presenti nel bacino montano del torrente Meduna. Nel conto alla rovescia per le elezioni dell'Europarlamento, la quindicesima edizione del Festival Vicino Lontano apre oggi a Udine con un articolato focus che inquadra la crisi dell'istituzione europea nel suo rapporto con le impasse di un'Italia incapace di affrontare le sfide globali. Oltre 250 protagonisti e un centinaio di eventi in cartellone fino a domenica ci mostreranno il mondo attraverso la lente del contagio. Parola chiave nell'edizione 2019 di Vicino Lontano. Ne abbiamo parlato questa mattina con Paola Colombo, curatrice della Rassegna. Sentiamo. Siamo pronti a partire, siamo qui davanti al nostro luogo simbolo che abbiamo tra l'altro aperto noi per la prima volta 15 anni fa agli eventi di Parola. Qui davanti oggi alle 6 l'inaugurazione ufficiale della manifestazione però qualcosa è già partito, ci sono state già alcune anteprime, voglio ricordare la mostra di Luca Pignatelli alla stamperia d'arte al Bicocco. Oggi alle 17 avremo la presentazione del nuovo numero di Limes anti-europei con Lucio Caracciolo che sarà anche il protagonista qui in Chiesa di San Francesco della sempre sua attesissima lezione che avrà come focus il ruolo dell'Italia. Il dibattito inaugurale invece sarà incentrato sull'Europa, siamo a una settimana dalle elezioni europee e cercheremo di esplorare insieme a Ian Zilonca che è un politologo dell'Università di Oxford con Giancarlo Bosetti direttore di Ressette e Guido Crainz che è uno storico tra l'altro friulano, moderati dal presidente del nostro comitato scientifico. Quando è iniziato a manifestarsi questa crisi che sembra stia travolgendo l'Unione Europea e che ruolo ha avuto la crisi economica nel determinare le difficoltà che tutti stiamo vivendo. Altro tema cruciale nella serie di incontri che si dipanneranno in queste giornate è quello delle mafie con grandi protagonisti, ci sarà Nicola Gratteri, ci saranno due giornaliste Verica Angeli e la friulana Floriana Bulfon, quindi anche su questo tema ci sarà spazio per dibattere. Sì, ricordiamo che la parola chiave che abbiamo scelto quest'anno così come filo conduttore di tutto il festival è contagio, parola che esploreremo nei suoi significati, nelle sue accezioni negative ma anche in quelle sue positive. Tra quelle negative c'è certamente quello della mafia e dal malaffare. Domani sera un importante dibattito con Federica Angeli che è sottoscorta per le sue indagini sulla mafia di Ostia, il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri e Antonio Nicaso che è uno storico delle organizzazioni criminali, uno dei più autorevoli esperti di internazionalizzazione dalle mafie con la moderazione di Giorgio Zanchini che è il conduttore di Radio Anch'io su Radio Rai 1. Andiamo adesso ad Aquileia dove un biglietto unico consentirà di visitare diversi siti dalla Basilica, le Cripte al Battistero e ancora l'Aula Meridionale, il Campanile e Domus Palazzo Episcopale e il Museo Archeologico. Da questa settimana con un solo biglietto del costo di 14 euro e valido per 30 giorni dalla data di emissione si potranno visitare tutte queste aree. Un'occasione anche per incentivare un percorso di visita del sito UNESCO di Aquileia che comprenda tutti i punti di interesse della città in modo da stimolare una lettura delle sue molteplici stratificazioni dall'età romana a quella paleocristiana e medievale con un occhio anche alle nuove valorizzazioni. Le aree archeologiche e il Museo Paleocristiano rimangono come sempre a ingresso gratuito. Andiamo adesso alla Daccia Arena per aprire la nostra pagina sportiva assieme a Jacopo Romeo. Eccoci, ciao Angela, di nuovo ben trovata qui dalla diretta Daccia Arena, Daccia Arena che sarà chiamato una volta di più perché è già successo praticamente sempre nel corso di questa stagione ad essere la molla che spinga l'udinese e speriamo già a mettere in ghiaccio la salvezza alla partita di sabato contro la Spallo qui alle ore 15. Già scavallato il muro delle 20.000 presenze tra abbonati e ticket staccati, mancano ancora due giorni, però è chiaro che anche la politica dei prezzi ultrapopolari che ha varato la società per questa sfida cruciale ha messo in condizione i tifosi di una volta di più dimostrare tutto il loro affetto. Mancano ancora due giorni e dunque è auspicabile che qualche altro mila di biglietti possa essere venduto per, si spera già, per poter festeggiare anticipatamente sabato pomeriggio. C'è però una partita da giocare, una partita da giocare molto complicata perché la Spallo, nonostante un avversario che non ha più nulla di chiedere a questo campionato perché già abbondantemente salva, vuole togliersi uno sfizio che in termini economici e di prestigio vorrebbe dire tanto per i ferraresi, ossia arrivare nella metà sinistra della classifica e conquistare il decimo posto che attualmente la formazione di semplici si divide con il sassuolo. Allora, Tudor naturalmente anche nell'allenamento di ieri ha lavorato su questo, sull'intensità, perché la squadra ci ha sempre messo l'atteggiamento giusto da quando ce l'impanchina, sapendo anche mutarlo a seconda dell'avversario che c'era di fronte, ad esempio contro il Frosinone sarebbe stata una partita diversa rispetto a quelle contro l'Inter l'Atalanta, Tudor ha fatto assorbire bene questo concetto ai giocatori e l'Udinese non ha assolutamente fallito, anzi ha archiviato la pratica in un tempo. Quest'oggi tra due giorni sarà una partita diversa e dunque occorre interpretarla nel modo giusto e Tudor ha lavorato proprio su questo negli allenamenti della settimana fino a questo punto, perché poi nei dettagli e nei dettami tattici nello specifico si andrà a partire da oggi, l'allenamento dovrebbe essere a porte chiuse, domani naturalmente la rifinitura tutta a porte chiuse e lì verranno formalizzate poi le scelte per l'undici titolare. C'è qualche dubbio, il solito dubbio in attacco, Pussetto Cacca Lasagna, ma si dovrebbe andare verso la conferma dell'undici in blocco che ha fatto bene a Frosinone, con un altro mini dubbio che potrebbe essere quello di Alessandro Siclar che anche in occasione della gara dell'Ustir per strada decisa in X-Termis. Ma, come detto, un fattore importante sarà quello del pubblico in uno stadio che si annuncia praticamente strapieno con la cornice e le grandi occasioni. Ora anche la squadra ha voluto chiamare ulteriormente a raccolta tutti i tifosi per far sì che la Dacerena possa essere sold out, come è successo contro l'Inter anche sabato. Guarda i tuoi istituti squadini, Angela, ma prima lasciamo vedere questo bel video di chiamata al rapporto, chiamiamola così, che hanno svolto i nostri ragazzi per tutti i tifosi bianconeri. Non mancare, è importante. Puginè! 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 Il meteo in chiusura per il pomeriggio di oggi avremo condizioni simili a quelle del mattino per domani e sui monti cielo da variabile a nuvoloso con la possibilità di qualche breve pioggia locale, più probabile verso il cadore e di pomeriggio. Su pianura e costa cielo variabile in prevalenza poco nuvoloso o al più variabile con venti di brezza. E adesso ci salutiamo con gli aggiornamenti di cronaca dall'Italia e dal mondo. Ecco il servizio dell'ANSA che chiude questa edizione del nostro TG. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata su DNewsTV. Dalle parole ai fatti. Ad una settimana dall'annuncio del presidente Hassan Rouhani, l'Iran ha iniziato a sospendere i primi obblighi derivanti dall'accordo sul nucleare del 2015. Come confermano dall'Organizzazione per l'Energia Atomica di Teheran, la Repubblica Islamica ha smesso infatti di esportare le proprie riserve di uranio arricchito e acqua pesante che eccedono i rispettivi limiti di 300 kg e 130 tonnellate, fissati proprio dal piano d'azione globale congiunto. Una mossa che alza ulteriormente la tensione con gli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo l'esibizione muscolare con l'invio di una flotta da guerra guidata dalla porta aerei Abram Lincoln, una squadra di bombardieri B-52, una nave anfibia ed una batteria di missili Patriot per contrastare non meglio precisate minacce iraniane, Washington ha ora messo in allarme anche il corpo diplomatico. Il Dipartimento di Stato ha ordinato al personale non essenziale dell'ambasciata a Baghdad e del consolato a Erbil di lasciare l'Iraq, allertati anche i residenti americani negli Emirati e in Livano. La Russia non è un pompiere, non possiamo andare in giro per il mondo a spegnere i focolai di crisi accesi da altri, ha detto Putin, consigliando comunque a Teheran di non lasciare l'accordo, il cui futuro è nelle mani dell'Europa che ufficialmente rigetta ogni ultimatum. Donald Trump spiana la strada al divieto di acquisto di apparecchiature Huawei e ZTE da parte di società di telecomunicazioni americane, accentuando di fatto lo scontro con la Cina. Il presidente americano ha firmato infatti un decreto in cui dichiara l'emergenza nazionale per le minacce ricevute dalla tecnologia americana. Huawei e 70 sue affiliate sono entrate ufficialmente nella lista nera del commercio in America.